salve care amiche e cari amici da molto tempo che non registro un video me ne dispiace ho caricato ultimamente due video fatti con la mia filmatrice è vero è vero sulla natura sugli uccelli e poi ho caricato anche il video di una persona che opina circa lo scandalo dei sacchettini di plastico ma adesso voglio fare un video di meno di cinque minuti col cellulare perché non posso fare i live streaming e vi voglio parlare di letteratura in questo caso di uno dei libri di rai nish pagava si rai nish il libro dei segreti ve lo consiglio perché come in tutti i suoi libri parla della meditazione e della meditazione che si consegue attraverso degli esercizi psicofisici per esempio mentre vieni accarezzata dolce principessa penetra il carezzare come via eterna chiudi le porte dei sensi quando senti il sollecitamento di una formica il solleticamento allora quando sei su di un letto o di una sedile lasciati diventare privo di peso al di là della mente vabbè ho aperto a caso parla in tutti i suoi libri come attraverso la meditazione non solo ci si possa veramente liberare ma si possano recuperare le proprie radici infatti nasciamo con un centro dice in questo libro non lasciamo con la consapevolezza di essere di avere un centro ma lasciamo con un centro nasciamo con delle radici se poi non ci riusciamo a centrare ad equilibrare allora ci disorientiamo ci perdiamo e ci squilibriamo quindi è per quello che meditare è l'unica vera rivoluzione che possiamo permetterci laddove hanno fallito le rivoluzioni politiche laddove hanno fallito le rivoluzioni economiche laddove incluso hanno fallito le rivoluzioni di culti organizzati cioè di religioni la meditazione veramente riesce a rivoluzionare l'individuo quindi vi consiglio tutte le opere di bhagavan sirai nish osho ma in particolar modo vi consiglio questa in questo caso perché mi è venuto in mente di fare questo corto video veramente ci sarebbe molto da parlare di quest'opera moltissimo soltanto che dovrei farne un sunto forse per la prossima volta l'attenzione tra le sopracciglia e la mente precede il pensiero la forma si riempia con l'essenza del respiro fino alla sommità della testa e li piova come luce cioè ci sono delle tecniche che realmente aiutano a meditare la medita la meditazione aiuta a essere più coscienti e queste mie papere perché sto combattendo contro il tempo altrimenti non riesco poi più a editare il video perché questo programma cielo in versione free questa applicazione mi resta un minuto veramente la meditazione ciò che ci riesce a rendere consapevoli io prossimamente farò altri video di letteratura commentando mi propongo di commentare le opere di reini che molte di loro le ho lette più di vent'anni fa negli anni fra gli anni 80 e gli anni 90 forse più di trent'anni fa adesso le vi voglio leggere tutte e naturalmente le come le andrò commentando a misura che le andrò leggendo perché non è che posso leggere 20 libri prima e poi commentarle tutte insieme ma adesso già il video è volto al termine vi saluto tutte e tutte amici miei dal vostro sant'anciano un abbraccio grazie di seguirmi e per favore iscrivetevi al mio canale ciao aiutate il mio canale a crescere fate iscrivere anche parenti amici e familiari al mio canale ciao